Siamo a 400 metri dal Parco Arcobaleno, a due passi dal Museo Casa Dondiana. Una zona residenziale con villette e appartamenti, ma guardando le immagini satellitari, in pochi minuti il paesaggio poteva ritornare molto simile a quelle vicine distese di terra. 65 chili di esplosivo, una cifra esorbitante di fuoco pirotecnico illegale che i carabinieri di quali hanno trovato in un garage di una villetta a Casal di Principe, a Via Pisa, in provincia di Caserta. È fine ottobre ma l'approvvigionamento per l'avvento dal dettaglio di botti e petardi è già iniziato. Il live motive pare non voglia proprio cambiare, il botto deve far rumore e avere una potenza distruttiva devastante. I carabinieri di quali hanno hanno raccolto diversi indizi con la voce in città che già circolava e hanno deciso di far visita a un 18enne incensurato casertano. Nel box il rinvenimento che ha sorpreso gli stessi militari, tutti ordigni non convenzionali dalle tradizionali cipolle fino ai piccoli candelotti, per un totale di 1.213 pezzi. Necessario l'intervento del nucleo artificiale dei carabinieri di Napoli, che hanno messo in sicurezza l'area prima di poter sequestrare l'esplosivo. O re di lavoro per poter agire in sicurezza tra le abitazioni di ignari cittadini e bambini che hanno rischiato inconsapevolmente la vita. Un peso complessivo di materiale esplodente che avrebbe potuto causare una strage. L'insospettabile è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.